Vice Presidente Zaffiri, si insedia oggi il Comitato per il Controllo delle Politiche Regionali, è un compito nuovo ed importante? Ma questo effettivamente è un compito nuovo, ma soprattutto ci metterà a confronto la nostra regione in riferimento alla valutazione politica e proprio sull'applicazione delle leggi con altre regioni d'Italia. Questa è un'esperienza nuova, è un'esperienza di confronto che cercheremo di ascoltare, di apprendere ma portare anche le nostre particolarità della nostra regione magari a confronto con altre leggi applicate e votate magari da altre regioni più grandi come entità numerica ma anche rispondendo magari a regioni in termini di territorialità diverse magari dalle stesse marche come Italia Centrale.